Battaglia! Contorsale, numero 87 Piazza, Matteo Ancora ancora piazza Battaglia Ultimo giro, ultimo giro Questa è la nostra 200 metri Sono i 9 dita Ecco l'attacco di Luigi L'attenzione Vasco le risponde Ecco Luigi Volate Luigi Lunghissima E' buonissimo 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 L'Ecce Profezio Vieni Sempi E' buonissimo E' buonissimo E' buonissimo K offi E' buonissimo E' buonissimo E' buonissimo